29 euro il prezzo di questo kit della Gillette, in realtà la linea King C Gillette che contiene appunto un kit, un insieme di prodotti, il rasoio, le lame di ricambio e il gel da rasatura che secondo me è un kit vincente soprattutto per chi ha intenzione di cambiare un po' magari il rasoio con le lame che sta utilizzando e passare ad un prodotto come il gel che è sicuramente molto più performante, molto più delicato rispetto alla schiuma, ai saponi e a tante altre cose andiamo a vedere però che cosa c'è dentro la confezione di questo prodotto ecco qui dunque in confezione null'altro, la lasciamo qua da parte e ci concentriamo un secondo su queste tre cose perché sono loro i veri tre protagonisti dunque partiamo dal rasoio perché poi un po' tutto parte da questo dove leggiamo che c'è rasoio e una lametta in confezione il colottellino per aprirlo, ci serve? Sì ci serve perché qua è sigillato prima di aprirlo, lubrificato le lame così almeno leggo due lame con strisce lubrificante, l'indicazione qui, manico premium che dovrebbe essere quello con una buona grip a occhio non sono quei rasoi che hanno la testa con lo snodo magari nel tempo ci saranno evoluzioni su questo e si andranno a formare kit di questo tipo che prevedano rasoi anche un po' più evoluti perché questi ormai sono ampiamente superati allora dunque questo è il rasoio, andiamo a verificare, sì infatti la testa è fissa si muove verticalmente ma non snoda, non ha uno snodo grip che va bene ma non benissimo perché è una plastica lucida e lucido sappiamo che soprattutto col bagnato è abbastanza scivoloso grip invece è rafforzata con questa sorta di insieme di lamelle sul retro qui nella parte posteriore e la lama che è protetta da questa capsula di plastica che vado a rimuovere se riesco ecco qui lama doppia che è intervallata tra una lama e l'altra c'è una barretta sempre di plastica che potrebbe essere quella lubrificata di cui prima si leggeva, lo vado a richiudere così da evitare di andare a toccare in giro inutilmente la lama che ecco clip ed è andato sistema di sgancio classico di Gillette avrei apprezzato però la testa snodata perché insomma parliamo di un prodotto lanciato nel 2020 Gillette sono parecchi anni che fa il rasoio con lo snodo non capisco perché questa scelta andiamo a metterlo di lato e vediamo se c'è qualcos'altro ci sono altre cose in confezione quindi possiamo ritirare questa prima scatola abbiamo poi le lamette per il rasoio per il collo che dovrebbero essere delle lame un po più rigide sono tre in confezione andiamo ad aprire anche questa vediamo se si può aprire da qua sopra no si apre da qui sotto a occhio classico blister Gillette con le diverse lame dove c'è anche lo spazio per la quarta che probabilmente in questo blister era prevista ma che essendo già stata messa di qua per contenere i costi non l'abbia inserita fa anche una brutta figura però questa assenza perché non è cioè si nota uno slot vuoto che potrebbe invece essere pieno io su queste piccolezze su queste rifiniture confido sempre molto nei top brand e poi talvolta si cade un po' proprio su questi aspetti progettato per la rassatura della barba su collo e guance con lame distanziate in modo ottimale per aiutare a ridurre l'irritazione con meno strappi e meno tagli questo è quello che è indicato su queste lame voglio andare ad agganciarne una portarla fuori perché voglio vedere se sono le stesse lame che abbiamo trovato qua dovrebbe essersi la risposta sì esatto sono le stesse ne abbiamo due lame che sono intervallate da una zigrinata al centro e poi una a posteriori con una zigrinatura molto molto più fine questo è quello che vedo quindi probabilmente sono studiate apposta per il collo vediamo se avevo ragione che qua ci poteva stare la quarta lama infatti questo era il suo posto solo che probabilmente pareva brutto presentare il rasoio in questa maniera quindi l'hanno agganciata e messa in confezione in quest'altro modo difficile invece farvi vedere il gel da barba che è questo ma vediamo come si presenta gel da rasatura trasparente progettato per rifinire la barba con tè bianco e quindi dovrebbe essere un qualcosa anche di rilassante per la pelle se non sbaglio contiene prevalentemente acqua ovviamente anche altri ingredienti leggiamo il nostro gel trasparente per la rasatura infuso con tè bianco protegge attivamente la pelle durante la rasatura e ti aiuta a rifinire accuratamente la pelle ogni giorno e quindi qua le istruzioni e cioè vallo a bagnare vai a spalmare a mettere il gel sulla mano con la mano spalmalo sulla barba da rimuovere poi con il rasoio rimuovi il tutto e sciacqua alla fine queste sono le indicazioni voglio solo far vedere di che colore è questo gel tra l'altro profumatissimo veramente molto veramente molto aromatico molto molto buono gel che è trasparente gel che è trasparente che rispetto alla schiuma da barba bianca beh permette di vedere dove si sta andando a tagliare sicuramente una comodità in più che quando ci si fa la barba fa sicuramente molto molto comodo e quindi che dire io già che ho il gel sul dito vado a completare l'opera vi racconto come mi sono trovato con questo prodotto nella recensione testuale grazie 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 grazie